musica ah no? no ti piace questo? ma si potrebbe andare però secondo me dobbiamo mettere dei faretti nel bagno ma tu sei pazzo che è la prima cosa che si arroba ma chi? e i ladri Federici vengono i ladri si rubano i faretti e poi stavo pensando per il resto dell'arredamento ho già tutte le idee chiare ah addirittura per esempio il divano eh il divano? io prenderei un bell'azzurro carico con un bell'effetto pixel tutto bianco e giallo ma il colore? io metterei anche due maxi schermi due? due maxi schermi? due oggi uno che fai? due maxi schermi ma di che stai parlando? e poi ora che asfaltiamo il giardino lo facciamo di un bell'azzurro carico come il divano di qui sopra prima cosa noi non asfaltiamo il giardino e poi smettila di voler arredare casa come il San Paolo eh? stengavi sciopo niente l'arredamento sono più le partenope